Musica Musica Qui alla fine del quarto memorial d'Amedeme siamo con Mamadou che quest'anno ha avuto la doppia veste di giocatore allenatore. Vinta la prima volta nella storia dell'Italia, voi avete sofferto questa sconfitta oppure l'ha meritata l'Italia? Sì, sì, ha meritato l'Italia, però noi abbiamo una squadra che tanti non sono dei giocatori neanche, ma abbiamo tanti giocatori che sono mancati. Quelli sono andati in Senegal, gli altri sono al lavoro. Per forse questo succedeva, ma comunque siamo contenti di essere qua per un'altra volta per ricordare il nostro amico, il nostro caro amico D'Amedeme. Speriamo che un altro anno siamo ancora qua per fare una partita per ricordarla. Nonostante la sconfitta è anche segnata, quindi una gioia personale l'hai avuta? Sì, sì, siamo contenti per fare la partita, ma solo che... Eh, questa coppa la volevate, non è? Sì, sì, la coppa mi piace tanto, che io la voglio anche, che l'Italia mi la regala, che la porto a casa. Però forse vincere sempre un po' ci si addormenta, quindi serve anche per lo stimolo per il prossimo anno, che la volete tornare a vincere, dico bene? Sì, 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 lo vogliamo tornare a vincere ancora, perché quest'anno abbiamo lasciato partire così, che sta in Italia, che non li portiamo la vittoria. Quest'Italia è sempre in vantaggio, la volete riportare in Senegal, come detto D'Amedeme era senegalese, però faceva parte della nostra comunità. Per la quinta edizione, quindi volete centrare nella vittoria? Sì, sì, quinta edizione lo vogliamo vincere noi, eh. Francia è una sfida, quindi è sempre aperta questa sfida? Sì, sì, la sfida riapre ancora. Ma qual è stato il migliore in campo oggi, lo vogliamo dire dei suoi mister? Il migliore, il migliore sarà uno di quelli che giocava con voi, ma non so come si chiama. Il migliore dei vostri, dico dai. Sono io. Chiaramente. Sì, sì, va bene, sono io. Chiaramente, non poteva, non auto piacere, ringraziamo. L'ultima cosa che voglio chiederti, un saluto a piacere che vuoi fare te e il nostro D'Amedeme, a noi tutti. Io vi ringrazio tutti, è un grande ricordo a D'Amedeme che non li dimenticheremo mai. e poi ci vediamo nella preparazione di Carpegno, ci vediamo, va bene. Grazie. Ciao. Grazie, grazie a voi anche. Grazie a voi.